Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza popolare e dolce come il Boston Terrier. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Questa razza ha origine a Boston, come ci suggerisce anche il nome stesso, dove i primi esemplari venivano creati come cani da combattimento e dove è nata proprio la razza dall'unione di cani Bulldog e Terrier di piccola taglia. Per quanto riguarda le sue caratteristiche fisiche, il peso invece varia tra i 7 e 8 kg per i maschi e 6-7 kg nelle femmine. La sua altezza invece è circa di 38-43 cm. Ha un carattere davvero socievole e affettuoso e giocherellone, va d'accordo sia con i grandi che con i piccini. Si riesce ad adattare bene sia in campagna che in città, ma non è un cane che abbaia molto, ma solo nel momento di difendere il proprio padrone o si sente rumori strani. Ama molto fare attività fisica, fare lunghe passeggiate e stare molto all'aria aperta, quindi se stai pensando di introdurre un Boston Terrier all'interno della tua famiglia, assicurati di avere abbastanza tempo per trascorrere del tempo con lui all'aperto. Come abbiamo detto anticipatamente, è un cane adatto anche alla guardia, sarà infatti pronto a difendere il suo nucleo familiare. Allo stesso tempo è anche un cane molto docine ed intelligente. Le caratteristiche lo rendono molto adatto anche ai padroni alle prime esperienze. La salute del Boston Terrier, a differenza di quello che si possa pensare, non vede particolari criticità. Ovviamente sarà opportuno effettuare i periodici controlli dal veterinario per tenere tutto sotto controllo. È una razza che soffre molto le temperature elevate e per questa ragione non ama particolarmente stare al caldo. Aspetto da non sottovalutare. Questa problematica con le temperature elevate deriva dalla conformazione del suo muso, poiché è schiacciato e non gli consente di respirare correttamente. Vuoi scoprire una curiosità sul Boston Terrier? Prima di svelarla assicurati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. Nel 1915 questa razza era la più diffusa e chiamata negli Stati Uniti. Oggigiorno è ancora molto presente, anche se non è più al numero uno tra quelle più scelte. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza docile, intelligente e coraggiosa come quella del Boston Terrier. Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!